Buona domenica e ben ritrovati con InfoStudio. Parleremo molto di sanità nell'edizione di quest'oggi del telegiornale, lo preannuncio, ma partiamo invece con un altro tema, ovvero la riunificazione, riunificazione perché di fatto si torna al passato, delle confederazioni provinciali di Catanzaro, Crotone e Vibo Valencia della CGL. E' nata infatti la CGL della cosiddetta area vasta, cioè la fascia centrale della nostra regione. Era un progetto che per la verità il più grande e più antico sindacato italiano aveva già da qualche tempo. Un ritorno al passato certo dal punto di vista proprio della competenza territoriale, non da quello invece dal punto di vista socio-economico, poiché le condizioni rispetto a quando, ormai più di vent'anni fa, nacquero i comitati provinciali, le condizioni socio-economiche sono profondamente mutate. Raffaele Mamoriti, ex segretario, a questo punto ex segretario provinciale della CGL di Catanzaro, sarà il primo segretario della CGL dell'area vasta della Calabria centrale, ma lo sguardo è stato lanciato anche al futuro, ovvero al congresso regionale che si darà fra pochi mesi dalla CGL, presente a Nino Baseotto che fa parte della segreteria nazionale. L'area vasta della CGL della zona centrale della Calabria, ovvero l'unificazione delle confederazioni provinciali di Catanzaro, Crotone e Vibo Valencia, è finalmente diventata realtà. Il congresso costitutivo della nuova struttura, della quale si parlava da molti anni, si è svolto alla mezzia terme. In Calabria, senza enfasi per il più antico sindacato italiano, si tratta di una novità epocale, perché si uniscono tre realtà importanti sotto il profilo economico e sociale. La nuova strutturazione nasce col difficile compito di orientarle verso una prospettiva di sviluppo sostenibile, proponendo nuove idee per lo sviluppo produttivo e per il rilancio occupazionale. Primo segretario della neonata realtà è stato designato Raffaele Mamoliti, che era a capo della segreteria provinciale di Catanzaro. È un passaggio storico perché intanto facciamo questa operazione nonostante le tre istituzioni provinciali restano, quindi mettiamo insieme e cerchiamo di orientarle verso un'idea di sviluppo sostenibile, diciamo tre realtà produttive, economiche e sociali importanti dell'area centrale della Calabria. Quindi sarà un compito molto oneroso, complicato e difficile, ma che assolveremo con grande responsabilità in maniera tale da poter proporre un'idea di piano del lavoro e di sviluppo produttivo per l'area centrale della Calabria. In questo territorio insistono delle infrastrutture importantissime per l'intero sistema calabrese, dall'aeroporto internazionale di Lamezia, ai porti, alle aree industriali, a una serie di altre presenze infrastrutturali notevolissime che fanno di quest'area centrale una parte strategica della situazione economica della nostra regione. Naturalmente ci troviamo di fronte al fatto che ci sono tantissimi strumenti e tantissime risorse che però purtroppo, dobbiamo dire ahimè, la politica non sta utilizzando in maniera proficua e soprattutto con la celerità necessaria in maniera tale che possa invertire questa situazione in cui tutti gli indicatori economico, sociali e occupazionali ci dicono che sono le peggiori delle 270 regioni d'Europa. Alla costituzione del nuovo assetto era presente anche il segretario organizzativo della CGL Nino Base 8, il quale ha sottolineato, come quello che è appena avvenuto alla Mezzia Terme, risponda a un'esigenza che si avverte anche in altre aree del paese. Una scelta importante perché è la scelta di stare di più sul territorio, svuotando un po' i palazzi, riducendo i gruppi dirigenti apicali per dedicare maggiori energie, maggiori forze alla vicinanza ai lavoratori e ai pensionati. È una scelta che vale per l'area centrale della Calabria, vale per tutta la regione, ma vale anche a livello nazionale perché è esattamente quello che noi abbiamo scelto di fare e stiamo facendo anche in altri luoghi. Riflettendo sul congresso nazionale ormai imminente in programma a Bari alla fine del prossimo mese di gennaio, Base 8 sottolinea che la CGL intende mandare un messaggio di coesione in un momento storico caratterizzato da rancori e disgregazione. La prospettiva è quella di fare un congresso che parli al paese, che rappresenti per questo paese dove c'è una chiara crisi della politica, c'è una chiara assenza di linee convincenti di governo per rappresentare al paese le nostre proposte, la nostra idea di società e la riproposizione di un grande sindacato che sta accanto ai lavoratori e ai pensionati e che però ha una visione complessiva di che cosa e di come cambiare la società italiana. Sul caso Riace, Base 8 ritiene che al di là della vicenda giudiziaria sia in atto un tentativo di colpire il modello di accoglienza che Mimmo Lucano aveva pazientemente costruito e che l'inchiesta sia stata solo il pretesto per distruggere un disegno che andrebbe invece replicato e migliorato. Crediamo che debba essere difeso il modello di accoglienza costruito a Riace, debba essere difeso da un attacco che non è solo l'attacco alla persona, poi la magistratura faccia il suo mestiere, ha certe eventuali responsabilità di Lucano e così via, ma è chiaro che c'è un disegno per liquidare un modello d'accoglienza. Liquidare un modello d'accoglienza a Riace nel resto d'Italia in favore del ritorno a una politica puramente securitaria, affidata unicamente alle questure e alle forze dell'ordine. Così non si affronta il tema dell'immigrazione, si rischia di scatenare una ondata di immigrazione clandestina e di abbassare quelle che sono le tutele sociali e civili che un paese moderno come l'Italia deve garantire a tutti, nativi e non nativi. Nei prossimi anni la sanità italiana, già di per sé alle prese con problemi endemici, si troverà ad affrontare delle carenze degli organici sia dei medici che degli infermieri che probabilmente renderanno esplosiva la condizione di una popolazione che invecchiando naturalmente avrà sempre a che fare con patologie croniche che si intrecceranno magari fra loro, quindi l'assistenza avrà problemi notevoli a fronte di una carenza che in questo momento, già in questo momento è di 53 mila infermieri, ne mancano 4 mila solo in Calabria, e di circa 8 mila e 500 medici nel solo settore dell'emergenza urgenza. Pensate che ogni infermiere dovrebbe di media assistere 6 pazienti, siamo invece ad una media nazionale di 11 con punte di 17, è chiaro che nessun infermiere in queste condizioni può fare miracoli e soprattutto prestare la propria opera in maniera efficiente e puntuale. Ormai la misura è colma, la mancanza di personale negli ospedali italiani è diventata una malattia terminale da cui sembra che non si riesca a tornare indietro. Non solo l'emorragia di camici bianchi che tra blocco del turnover e pensionamenti non riescono più a far fronte alle emergenze, ma anche la mancanza cronica di infermieri rischia di mandare in tilt un sistema già in affanno, soprattutto se si considera che la popolazione invecchia sempre di più. Ogni infermiere dovrebbe assistere al massimo 6 pazienti per ridurre del 20% la mortalità. In Italia invece mancano almeno 53 mila infermieri e chi presta servizio assiste contemporaneamente una media di 11 pazienti, decisamente troppi per poter dedicare a ciascuno il giusto tempo e le dovute attenzioni. Ed anche il rapporto medici-infermieri che dovrebbe essere di 1 a 3 è ormai crollato ed a volte sfiora la parità. Una carenza che riflette la salute dei sistemi sanitari regionali. Solo in Campania, regione che ha quasi 6 milioni di abitanti, mancano quasi 9 mila infermieri e quelli in servizio assistono in media 17 malati a testa. Questi numeri arrivano da un'analisi del Centro Studi della Federazione Nazionale degli Ordini degli Infermieri che ha analizzato le carenze regione per regione. Le uniche ad avere raggiunto la media ottimale di cura pari a 3 infermieri per ogni medico sono Emilia-Romagna, Friuli-Venezia-Giulia, Veneto, Molise e la provincia di Bolzano. Il resto d'Italia arranca, Calabria compresa. Nella nostra regione mancano 4 mila e 24 infermieri. Questa insufficienza non è senza conseguenze ovviamente poiché porta a un aumento di rischi per i malati e per gli stessi operatori. Per giunta, per ovviare al deficit, non potendo assumere, si cercano altre soluzioni, come il ricorso a cooperative ed al lavoro interinale. E gli stipendi sono pure da fame, in barba alle normative europee. Per correre ai ripari, la Federazione degli Ordini Infermieristici ha chiesto un incontro urgente col Ministro della Salute, Giulia Grillo, e con le regioni, finora impegnate solo sul versante della carenza di medici. Per i quali, c'è da dire, la coperta si fa sempre più corta. Nei pronto soccorso italiani oggi mancano più di mille medici e sono oltre 4 milioni l'anno le visite mediche che gli attuali organici effettuano in sovraccarico rispetto agli standard nazionali. Numeri questi diffusi dalla Società Italiana della Medicina di Emergenza Urgenza, che ha raccolto dati su un campione di circa 110 strutture di emergenza che rappresentano 6 milioni di accessi, circa un terzo del totale nazionale. I medici a tempo indeterminato nei pronto soccorso sono 5 mila e 800, mentre in base alle piante organiche delle aziende sanitarie ne servirebbero oltre 8 mila e 300. Si tratta di una situazione di grave sofferenza del servizio pubblico che mette in serio pericolo la qualità delle cure. Trovare subito una soluzione dovrebbe essere un imperativo categorico. Con l'incremento della vita media, ma anche del numero di persone affette da malattie croniche, come diabete ed alzheimer, aumenta il bisogno di assistenza, sia medica sia di personale comunque in grado di fornire cure. E le prospettive al momento sono tutt'altro che rosee. Parliamo ancora di sanità, parliamo di un problema che per quanto interessi una porzione soltanto della popolazione, adesso comincia a diventare sempre più coinvolgente. quello delle malattie rare, perché purtroppo le malattie rare stanno aumentando, quindi nessuno può chiamarsi fuori intanto dall'impegno contro questo tipo di patologie e a favore della ricerca e nessuno può sentirsi escluso da questo flagello. Pochi giorni fa il Lions Club di Catanzaro ha siglato un'intesa con l'azienda ospedaliera Pugliese-Ciaccio. È l'avvio di un progetto che dovrebbe coinvolgere l'intera rete ospedaliera della Calabria per fare in modo che gli esperti e coloro che si occupano di questi problemi si parlino e scambino informazioni sempre più frequentemente e sempre più velocemente. Perché? Perché il tempo, quando si viene colpiti da una malattia rara, è determinante. Spesso la diagnosi viene fatta dopo molti anni, anche dopo molti anni, persino 15-20 anni dall'insorgenza. Ecco dunque che arrivare presto significa avere più possibilità di successo. Intanto il Lions ha sollevato il problema e gliene va dato atto e merito. Sono circa 8.000 ma il loro numero è tuttora in costante crescita. Le malattie rare tuttavia coinvolgono quasi 2 milioni di italiani e ben 30 milioni di persone in tutta Europa, il che le rende sempre meno rare e sempre più insidiose. Immutati invece il tempo della diagnosi, che è sempre tardiva, in alcuni casi fino a 15-20 anni dall'insorgenza dei primi sintomi, ed il fatto che per contrastarle siano disponibili poche risorse, molte delle quali vengono anche sprecate in progetti di ricerca improduttivi. A pochi giorni dalla sigla dell'accordo con l'azienda ospedaliera pugliese Ciaccio per la cura dei malati ed il supporto delle loro famiglie, il Lions Club di Catanzaro ha avviato un dibattito sulla necessità che il confronto sulle malattie rare si faccia sempre più serrato e che le informazioni vengano scambiate continuamente e velocemente. In Italia, per chi ha una malattia rara, esistono pochi centri di cura e pochi farmaci a disposizione. È dunque indispensabile rafforzare dialogo e comprensione, come ha spiegato il professor Francesco Perticona, ordinario di medicina interna all'Università Magna Grecia di Catanzaro e presidente della Società Italiana di Medicina Interna. In Italia ci sono 1.700.000 persone affette da malattie rare, perché le malattie rare sono da 6.000 a 8.000. Ancora il numero esatto non si conosce e questo ha un grosso impatto sociale, perché in una famiglia in cui c'è un malato con malattia rara si sconvolge l'organizzazione stessa della famiglia. C'è un problema economico, sociale, di relazione con gli altri. I livelli minimi di assistenza non sono riconosciuti per tutte le malattie rare e questo ha un impatto da punto di vista assistenziale, ma anche economico, gestionale delle famiglie. L'idea dei Lions, in particolare il Club Temes di Catanzaro, ha deciso di avviare questa iniziativa per sensibilizzare a questo problema e ci rivolgiamo ai ragazzi per due motivi. Uno perché la solidarietà nei confronti di questi pazienti e delle famiglie è un qualcosa che i ragazzi possono dare, ma soprattutto vorrei che i ragazzi fossero responsabili del futuro del nostro ambiente, perché la maggior parte di queste malattie rare è determinate da alterazioni genetiche che possono essere condizionate dalle alterazioni ambientali. A sollecitare l'iniziativa è stato il delegato del Lions di Catanzaro per le malattie rare, il gastroenterologo Roberto Iuliano, il quale ha sottolineato come l'intesa siglata a Catanzaro rappresenti una novità. Per la prima volta infatti si costituisce una rete regionale per censire le patologie e soprattutto per stabilire una base di lavoro scientifica per meglio comprenderne le cause, accelerarne la diagnosi e definire una possibile linea terapica. Il discorso verrà poi allargato anche agli altri ospedali calabresi, creando così un gruppo di lavoro di specialisti, una rete che incrementando il dialogo faciliti la comprensione dei fenomeni e migliori le esperienze. Abbiamo stipulato un atto d'intesa, Lions, aziende ospedaliere, dove i medici Lions che lavorano già di per sé nell'azienda porteranno avanti un discorso relativo alle malattie rare su base non solo epidemiologica, come già stanno facendo le regioni, la nostra in particolare, ma a livello scientifico. Cosa vuol dire? Si coordineranno i vari medici delle varie aziende per portare avanti un discorso comune su base terapeutica ed eventualmente anche preventiva per quanto è possibile farlo su queste malattie che sono certamente difficili da diagnosticare. C'è un altro ancora obiettivo. L'obiettivo è quello di far sì che vengano riconosciute tutte queste malattie in quanto malattie vegne di avere il codice per l'essenzione. Su 8.000 malattie, meno di 1.000 hanno questo codice. Sarà portata avanti una petizione al Presidente della Repubblica Italiana affinché tutte le varie malattie rare vengono riconosciute con pari dignità, ovvero sia non è giusto che un paziente con una malattia rara, anche in maniera grave non possa avere il codice di esenzione. Un impegno questo del Lions Club che continueremo a seguire e appoggeremo per quello che potremo naturalmente nell'interesse di tutti. Bene, era il servizio di chiusura per questa edizione domenicale del nostro telegiornale, per aver seguito la quale vi ringrazio, vi consiglio di restare sul 13. L'informazione torna domani. Grazie a tutti.